Farsi trovare pronti e aumentare sia i controlli sia il flusso di dati. Sono questi gli obiettivi del protocollo firmato dal procuratore della Repubblica di Pesaro, Cristina Tedeschini, dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, Enrico Blandini, e dal sindaco di Fano, Massimo Seri. L'accordo, che segue quello già seglato a Pesaro e previsto per Vallefoglia, porterà a un dialogo costante tra istituzioni e forze dell'ordine per tutelare i fondi previsti dal Piano Nazionale di Riprese e Resilienza. Per Fano i finanziamenti vanno dai 60 agli 80 milioni di euro, tanti soldi che potrebbero far gola alla criminalità. Più le sfide sono complesse, ha dichiarato Blandini, più le strutture da mettere in campo devono essere adeguate. È un protocollo molto importante perché aumenta la nostra capacità di analisi, perché aumenta il flusso informativo di cui ovviamente abbiamo bisogno per selezionare target in maniera quanto più efficace e funzionale possibile. E quindi il fatto che il comune di Fano ci fornisca le prime indicazioni su magari possibili anomalie ovviamente agevola il nostro compito, che normalmente noi facciamo sia con l'utilizzo delle nostre banche dati, abbiamo oltre 150 banche dati che vengono messe a sistema da una dorsale informatica e quindi con unico inserimento abbiamo la possibilità di fotografare appunto il nostro target a 360 gradi. Il lavoro dei finanziari, ha precisato Blandini, si concentra sia sull'atto amministrativo che su quello di polizia giudiziaria. In questo caso i controlli saranno incentrati sulle anomalie dei bilanci delle società, sulle emissioni di fatture false e sull'analisi della filiera degli appalti e subappalti, interventi mirati e più efficaci grazie al patto seglato questa mattina. Dottoressa, uno dei pochi protocolli in cui rientra anche la Procura della Repubblica, tra l'altro ha sottolineato anche il fatto che dialogare con i comuni non è né semplice né banale. No, è né semplice né banale. Ho maturato la convinzione di avere degli interlocutori seri, onesti, validi e quindi capaci di potersi interfacciare con il mio ufficio con serenità. Anche se la Procura in realtà non fa prevenzione? No, noi ci occupiamo di reprimere reati. Questo è un altro motivo per il quale spesso gli uffici di Procura non si coinvolgono. Io sono profondamente convinta invece che in realtà punire i reati è una mezza sconfitta per le istituzioni perché è molto meglio per tutti che i reati non vengano proprio commessi. E quindi penso che il coinvolgimento del mio ufficio come presidio di legalità nell'ambito di questa azione sia assolutamente opportuno e utile. Non un dispendio di energie ma un buon impiego delle nostre risorse. Infatti il pericolo è dietro l'angolo, ha commentato il sindaco Seri, che ha evidenziato la trasparenza e la massima attenzione rivolta al settore della spesa pubblica. In questo caso quando si gestiscono tantissimi soldi è importante tutelarsi, è importante prevenire per evitare che poi accadano illeciti o accadano disastri. Troppo spesso questo è un paese che rincorre le emergenze invece di prevenire. Ecco, il protocollo di oggi vuole prevenire, vuole fare un lavoro di collaborazione negli interessi della cosa pubblica.